Un'opera imponente che cambierà il volto della città e di tutta la Valle dell'Irno. La realizzazione della città della medicina baronissia a supporto della Facoltà Universitaria di Medicina sarà un vero e proprio polo di eccellenza, attrattore per l'insediamento di nuove aziende biomedicali sul territorio. Il Comune di Baronissia ha pubblicato l'avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse all'assegnazione di aree nell'ambito del polo di ricerca denominato Città della Medicina, destinate a start-up, aziende biomedicali, imprese connesse ad attività sanitarie e di supporto all'università. È stato il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, l'assessore comunale con delega alla Città della Medicina Alfonso Farina, il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia, alla presenza dell'assessore all'internazionalizzazione, start-up e innovazione della Regione Campania Valeria Frascione, a presentare stamani al Comune di Baronissi nell'Aula Consigliare di Palazzo di Città i dettagli della manifestazione di interesse per la Città della Medicina. Sì, io penso che sia una grande opportunità sicuramente per questo territorio che insomma lancia una sfida importante, ma la lancia proprio alla Campania e anche al sistema Paese Italia perché lancia l'opportunità di creare qui un polo altamente innovativo che lavora proprio sulle nuove frontiere della medicina. Oggi siamo tutti sensibili su questo argomento perché viviamo ovviamente un momento di grande emergenza, ma al di là dell'emergenza, anche quando finirà l'emergenza, il settore delle scienze della vita è uno di quei settori a più alto potenziale di crescita in Italia e nel mondo. La farmaceutica va benissimo, cresce, il biomedicale cresce. Quindi si è deciso di investire in un settore dove le potenzialità sono alte. Quindi si possono creare nuove imprese, si possono creare start-up, si può fare trasferimento tecnologico, si può fare attrazione di investimenti. Insomma è un settore su cui conviene investire ed è il messaggio che appunto lanciamo poi alle imprese che vorranno rispondere alla manifestazione di interesse. Sì, è un ambizioso programma, un ambizioso progetto che vede i protagonisti del Comune di Baronissi affiancato in maniera esemplare, devo dire, dall'Università degli Studi di Salerno, la Facoltà di Medicina è ospitata nel campus universitario di Baronissi e della Regione Campania. Sono le tre parti istituzionali che portano avanti con convinzione questo progetto. due giorni fa la manifestazione di interesse, i lavori di infrastrutturazione vanno avanti e dentro la fine del 2021 saranno completati. Adesso pensiamo ad attrarre appetiti a investimenti di aziende innovative, tecnologiche, nel campo del biomedicale, della ricerca, dell'alta formazione in maniera tale che formino un tutt'uno, un unico corpo con la Facoltà di Medicina. È un momento significativo perché significa crescita, perché significa sviluppo, perché significa indotto, perché significa lavoro per la città, per la Valle dell'Irno e abbiamo l'ambizione di andare oltre i confini nazionali e di essere punto di riferimento non solo d'Italia, del sud Italia, ma di tutto il paese e forse anche oltre. Ci sono aziende che a prescindere dalla partenza dei termini della manifestazione di interesse già nei mesi scorsi sono affacciati a questo territorio? Stiamo lavorando, stiamo lavorando su questo, stiamo spiegando agli investitori potenziali tutte le condizioni di vantaggio, di favore che offre questo territorio, assicurando l'impegno delle istituzioni, innanzitutto il Comune, ma anche dell'Università delle Regioni, di dare il massimo supporto, il massimo della socialità, di abbattere purtroppo le pastore burocratiche che spesso impediscono agli investitori del nord Italia e anche d'Europa e anche oltre di investire in Italia. Un distretto ad alta tecnologia, su un profilo di tecnologie biomedicali, con una convergenza importante di interessi che arrivano da tutto quello che è una dorsale di spin-off importante dell'Università, che oggi ci ha dato anche la possibilità di avere dei riconoscimenti importanti nazionali e internazionali, però con una realizzazione di un'amministrazione che quindi va a coniugare il driver dell'Università con l'allestimento di un distretto, un distretto che ospiterà quindi non solo quelli che sono attuali spin-off e start-up dell'Università, ma i nuovi, nuovi ingressi e io ritengo che ci saranno delle sorprese importanti perché quello che sta avvenendo qui è un progetto, io direi pilota, anche proprio con una caratteristica molto importante, originale a livello nazionale, che sono convinto che sarà un attrattore significativo di interessi industriali, innovativi, importanti.